Quando eri in carcere, Enzo, di cosa avevi più paura soprattutto? Di perdere la mente, di diventare male. Ho un debito grosso nei guardi dei detenuti, mi hanno salvato loro. Io credo di dovere la vita ai carcerati, dai miei compagni di cella. Ti volevo chiedere chi ti ha aiutato, che cosa ti ha aiutato a lottare. Tutti mi hanno aiutato a non morire lì, mi hanno aiutato dandomi una mano. Io questo, siccome sono un uomo, non lo dimenticherò mai. I temi della giustizia, i temi del carcere, i temi che tu citavi prima di presentarmi, saranno i temi ai quali mi hanno inchiodato e che io porterò avanti come potrò, ma senz'altro con una passione infinita.